La denuncia corre in rete, è nata infatti dall'analisi da parte della Guardia di Finanza di Padova di diversi annunci pubblicitari, anche online, che proponevano immobili in vendita o in locazione. Sono state sanzionate 27 agenzie di intermediazione immobiliare che hanno pubblicizzato in totale 79 annunci irregolari che omettevano o indicavano in maniera errata la classe energetica degli immobili. Sono state anche sottoposte a controllo le posizioni lavorative degli agenti immobiliari verificandone l'iscrizione alla Camera di Commercio ed è stato accertato che quattro collaboratori svolgevano l'attività di intermediazione non avendone titolo e pertanto ad ognuno di questi è stata contestata la violazione amministrativa con una sanzione compresa tra 7.500 e 15.000 euro.